Musica Amici di Onda Libera siamo con Annibale Montanari che è il presidente della Colle Marathon. Questa maratona che è stata definita maratona dei valori, giusto? Ma ci dici quando e come è nata? Ma è nata, noi siamo un gruppo di maratonetti che abbiamo girato il mondo con la maratona e abbiamo pensato, io volevo festeggiare le mie 100 maratone e poi insieme agli altri amici che condividevano la mia idea abbiamo messo su questo percorso un qualcosa veramente di significativo e di importante per tutto il territorio perché veramente questa è unica, perché dalla collina al mare non ce ne sono quindi è stata un'idea di tutti insieme dove abbiamo degli obiettivi comuni, quello di attraverso il nostro stile di vita oltre che divertire e far sognare tutti quanti, dare belle emozioni che solo lo sport può dare. Perché questa maratona diciamo parte da Barchi fino a Fano, giusto? Quanti chilometri sono? Sono 42, 195 come tutte le maratone al mondo, parte dalla collina, arriva al mare quindi anche per questo è unica veramente un percorso straordinario dove veramente la gente si diverte. E quest'anno sarà il 4 maggio, giusto? Quest'anno il 4 maggio, dodicesima edizione, siamo oltre mille i partecipanti quindi ci sarà tanta bella animazione come sempre abbiamo quest'anno investito con un drone che farà delle belle riprese dall'alto, quindi ne avremo e poi invitiamo tutti quanti, tutti quelli che vogliono essere sul percorso daranno un bel contributo a tutta la manifestazione. Bocca al lupo allora a tutti gli atleti! Grazie! E vi seguiremo! Grazie mille a tutti quelli che ci saranno, veramente daranno un grosso aiuto, grazie! Grazie! Grazie!